In questo video parleremo di un'altra possibilità di utilizzo con il nostro nuovo dispositivo al plasma. Questa possibilità è dell'utilizzo del nostro dispositivo con gas esterni. Quindi qual è il beneficio di utilizzare gas esterni? Il beneficio principale è con gas come l'argon che l'arco elettrico si stabilizza in maniera particolare e la distanza tra l'elettrodo e la pelle aumenta significatamente e il plasma diventa plasma cosiddetto freddo. Non è perché è completamente freddo, la temperatura è perché la temperatura in questo punto tra la pelle è il plasma. La temperatura di contatto è molto minore del plasma cosiddetto normale perché questo plasma è molto più stabile e se utilizzassimo il plasma normale la temperatura è così alta che c'è una propagazione di calore all'interno del derma, come vediamo in tutti gli altri dispositivi a plasma normale o arco elettrico nell'aria. Il dielettrico nei dispositivi a plasma come li conosciamo normalmente è l'aria. In questo caso quello che facciamo è utilizziamo gas esterni per stabilizzare l'arco elettrico. L'arco elettrico con gas esterni come l'arco elettrico sembra quasi come una fiamma e una fiamma che soffia tra la punta dell'elettrodo e la superficie di qualunque cosa, in questo caso per trattamento di tipo estetico della pelle. È quello che permette una delle applicazioni migliori di questo plasma ad argon e la possibilità di fare il skin resurfacing molto facilmente. Il skin resurfacing si può fare anche senza l'argon con arco ad aria, con cui il dielettrico è aria come lo conosciamo normalmente, però è molto più difficile da realizzarsi perché quando noi utilizziamo l'argon questa fiamma ha un diametro molto ampio e vi permette di lavorare con molta facilità e di asportare il livello epidermico molto facilmente. Quindi questa è un'altra delle nuove applicazioni del nostro dispositivo ad arco elettrico, se avete qualunque tipo di domanda vi potete contattare con noi tramite whatsapp, i contatti sono sui nostri siti internet. Grazie per la cortese attenzione.